Gio Ricci finalmente si realizza il sogno di riportare Alessio Befi a casa? Certamente, un sogno che si avvera dopo tanto tempo, dopo due o tre anni di corteggiamento. Adesso è arrivato il momento giusto per portarlo a Cervinara e per risultare insieme a lui questo campionato di eccellenza. Cosa si aspetta da Alessio Befi? È quello che sta a fare, i gol, prestazioni ad alto livello, grande voglia di fare bene a Cervinara, che la sua squadra del cuore l'ha sempre dimostrata, quindi noi di questo saremo orgogliosi e ne siamo orgogliosi da sempre. L'anno scorso è Mariano, che l'anno scorso stava a Montesacchio, anche lui, ed è un ragazzo che rientra pure lui dall'anno scorso, perché anche lui era a Cervinara, poi è andato a Montesacchio l'anno scorso, ha fatto 23 presenze, adesso è intorno a Cervinara per darci una mano in questo campionato di eccellenza. Allo stato attuale quante possibilità ci sono di vedere Silvio e Andrea a Cervinara? Io credo che le possibilità siano tante, perché è un ragazzo che il Cervinara vuole, che il mister Andrea lo sta chiedendo fortemente, perché è un 95 con grande voglia di fare bene, è un ragazzo che vuole dimostrare anche lui che la promozione è una categoria che gli sta stretta, e quindi può vantare anche lui di giocare in eccellenza e dimostrare tutto il suo valore. Poi giocare vicino a Alessio penso che gli farà solo più bene che male.